Alla scoperta dei luoghi più belli d'Abruzzo, approfittando della gita di Pasquetta, i consigli su dove andare arriveranno dallo storico giuliese Sandro Galantini, che domani sera sarà il relatore del tradizionale appuntamento organizzato all'Enoteca di Controguerra alle 9 della sera. Dalla montagna al mare, dai borghi ai musei, Galantini saprà proporre le scelte migliori da fare per il lunedì dell'Angelo. Grazie a Fabrizio Di Bonaventura, vice sindaco di Controguerra, abbiamo già dato, nel senso che è una proposta che viene effettuata periodicamente, di che si tratta? Si tratta, in questo incontro che si tiene all'Enoteca Comunale di Controguerra, alle 9 della sera appunto, si tratta di indicazioni che vengono date prima dell'appuntamento pasquale. Quindi indicazioni relative a dei territori, magari non tutti conosciuti o non tutti conosciuti adeguatamente dagli stessi abruzzesi, luoghi, monumenti, emergenze architettoniche in genere, dove poter trascorrere Pasquetta. In questa occasione io darò anche delle indicazioni relative ad alcune manifestazioni molto suggestive, molto intriganti, che si tengono in giro per l'Abruzzo in occasione della Pasqua, quindi dalla Madonna che scappa di Sulmona ad altri eventi e manifestazioni di carattere folclorico che coinvolgono il nostro territorio. Quest'anno poi la Pasquetta coincide anche con la festa della Madonna dello Splendore di Giulianova, una delle feste religiose più antiche d'Abruzzo. Potrebbe quindi anche essere l'occasione per molti abruzzesi, ma non solo, di una gita al santuario nel cuore del centro storico giuliese. Può essere per Giulianova un momento felice, perché si sa che durante Pasqua e quindi Pasquetta molte persone, molti turisti vengono nei nostri territori, si trattengono due o tre giorni. E in questa occasione Giulianova offrirà anche a coloro che vengono questo appuntamento straordinario, una delle feste più antiche d'Abruzzo con oltre 500 anni, una festa che segna il coinvolgimento della popolazione e anche delle popolazioni vicine e che presenta tutta una serie anche di iniziative, un calendario molto fitto, che culminerà poi il 22 aprile con un concerto, quest'anno un concerto importante perché ci sarà Antonio Sorgentone che reduce dai successi di Roma. E quindi insomma credo che veramente quest'anno la festa della Madonna dello Splendore sia in più delle altre edizioni, magari in grado di far affluire tantissime persone a Giulianova e rendere, almeno in occasione della festa, Giulianova veramente un centro di riferimento importante non solo per la nostra regione ma anche per quelle vicine.